Allora insomma io vengo qui da Pacifico e guardate chi ho trovato Guardate chi ho trovato Amore E quando ti vede Asia Lui è il nuovo adottante Eh sì sì ecco Tina Ce l'ha presentato Amore quando ti vede Asia Hai capito Rina? Almeno io l'ho rivisto eh Grazie a tutti